A Pesaro firmato l'accordo per il nuovo ospedale che sorgerà entro il 2027, la struttura di 70.000 metri quadrati, sarà sicura, efficiente e altamente tecnologica. Partiti i lavori di asfaltatura, il Codma di Rociano Afano, questa mattina sopra il luogo dell'assessore regionale Baldelli, a 5 mesi dall'impegno preso, i mezzi sono entrati in azione. Rischio di esondazione del torrente Arzilla, Giorgio Pucci del comitato lancia un appello, basta interventi a spot, serve una manutenzione ordinaria. Salite, curve e discese mozzafiato, Afano arriva la pista per gli appassionati di pattini a rotelle, mountain bike e monopattini. Carnevalesca al voto un socio su 5 per eleggere il nuovo direttivo, la capolista e presidente uscente Gian Marioli si prepara per il terzo mandato, domani il primo consiglio dell'ente per formalizzare le cariche. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla notizia, in primo piano nuovo ospedale a Muraglia di Pesaro con l'accordo siglato da Comune, Regione, Marche Nord e Asur. I lavori per un costo di 170 milioni di euro partiranno entro il 2024. E' stato firmato questa mattina l'accordo di programma per la costruzione del nuovo ospedale di Pesaro. Erano presenti il governatore Francesco Acquaroli, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il direttore generale di Asur Marche Nadia Storti e il direttore generale di Marche Nord Maria Capalbo. Oggi, ha dichiarato il presidente, si compie un passo importante per procedere alla realizzazione del nosocomio con un crono programma definito con lo scopo di arrivare quanto prima alla realizzazione di quello che è uno degli investimenti più grandi mai fatti dalla Regione. Pur partendo da punti di vista differenti, affermato invece il primo cittadino, siamo riusciti a trovare un accordo sul contenitore dell'ospedale di Muraglia. Non nascondo, ha aggiunto Ricci, una forte preoccupazione per la mancanza di personale e in particolare sulla cancellazione dell'azienda Marche Nord e sul problema della mobilità passiva. Sarebbe interessante poi aprire un ragionamento sull'attuale area del San Salvatore che tenga insieme l'aspetto urbanistico e socio-sanitario. Nell'accordo si prevede il trasferimento delle strutture attualmente presenti nell'area di Muraglia entro il 30 settembre 2024 per permettere l'avvio dei lavori entro i successivi 30 giorni. La nuova struttura di circa 70.000 m2 verrà realizzata con i più alti livelli di sicurezza antisismica e risponderà ai requisiti di risparmio energetico grazie alla costruzione di un edificio con consumo di energia quasi zero. Sono previsti circa 400 posti letto per un investimento di 170 milioni di euro anche in considerazione dei continui aumenti dei costi dei materiali. Inoltre vista la complessità dell'opera la norma prevede l'indizione di un concorso di progettazione entro la fine dell'anno in corso per individuare la migliore proposta che risponda alle esigenze del territorio con particolare attenzione all'inserimento nel tessuto urbano. Seguirà la progettazione fino a livello definitivo che potrà essere posto a base di gara da espletare con l'appalto integrato riducendo notevolmente i tempi procedurali. Si prevede di iniziare i lavori che dureranno circa tre anni entro il 2024. Altri due anni di stop al consumo del suolo a fini urbanistici. Il provvedimento è contenuto all'interno di una proposta di legge approvata oggi dalla Giunta regionale e presto all'esame dell'Assemblea legislativa. La proposta proroga il termine del divieto attualmente fissato al 31 dicembre 2022. La futura legge sul governo del territorio che in fase di redazione, come ha spiegato l'assessore all'urbanistica Stefano Guzzi, introdurrà regole generali di tutela e salvaguardia ambientale. In particolare si stabilisce che non sono ammesse ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei comuni che non hanno completato per almeno il 75% l'edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica, prevedendo tuttavia che possano essere sempre adottati nuovi PRG se finalizzati a ridurre l'espansione delle aree edificabili oppure a recuperare le aree urbane degradate. Ed ora torniamo a parlare della messa in sicurezza del torrente Arzilla perché oggi a lanciare un appello è Giorgio Pucci che chiede una manutenzione annuale ordinaria per prevenire il rischio esondazione. Il maltempo del 15 settembre scorso che nelle Marche ha provocato morte e distruzione ha fatto tornare in auge il problema della manutenzione dei corsi d'acqua. Sull'Arzilla però è da tempo che i residenti chiedono interventi a chi di competenza, visti i precedenti. L'ultima drammatica alluvione risale al 1979 quando l'esondazione del torrente provocò gravi danni e disagi e oggi lo scenario preoccupa gli abitanti della zona. La vegetazione infatti l'ha completamente invaso e sulle sponde ci sono grossi alberi pericolanti. Alla luce anche degli ultimi fatti che hanno riguardato la Regione Marche, che cosa chiede il Comitato? Allora effettivamente ogni volta che ci sono questi disastri purtroppo si ritornano su queste stesse problematiche. Mi ricordo quando era caduto il ponte a Genova e tutti guardavano i ponti eccetera eccetera, oggi con il disastro di Cantiano e soprattutto di Senigallia dove sono purtroppo decedute delle persone si ritorna sulla problematica di manutenzione dei fiumi, dei torrenti. Allora noi qui siamo sul lungo il torrente Arzilla e sicuramente questo è uno dei corsi d'acqua più pericolosi della nostra zona. Perché pericoloso? Perché come possiamo vedere tutta l'estate è stata in secca completamente per cui 5 mesi senza acqua. Cosa vuol dire? Vuol dire che magari in un caso di bomba d'acqua che purtroppo ci possono essere, ci sono state anche qua, il torrente esonda. Esonda dove? Prima aveva uno uno spazio, aveva delle golene dove erano pulite ed erano abbastanza, dove l'acqua poteva correre tranquillamente. Oggi la situazione è questa, perché? Perché qui purtroppo abbiamo perso il concetto della manutenzione. Da una parte, ha proseguito Pucci, sia la stampa che i politici si stanno interessando e attivando per risolvere il problema. L'importante è che non si distrugga tutto, ha proseguito, e che si pensi anche alla piantumazione di alberi lontano dall'alvio. In passato qui era pieno di salici e pioppi. Cerchiamo di fare manutenzione. Cosa vuol dire? Vuol dire farla in maniera continuativa. Non una operazione spot, non stanziare delle somme esorbitante oggi perché è venuto l'evento. Dobbiamo in maniera costante, per cui costante negli anni, fare manutenzione. Quando sono intervenuti l'ultima volta? Allora, i grossi interventi sono ormai decenni, per cui non sono stati fatti niente. Lo scorso anno però siamo riusciti, grazie al Consorzio di Bonifica delle Marche, abbiamo cercato di pulire una parte di 400 metri, sia a destra, sia dell'argine a destra che dell'argine a sinistro, per cui abbiamo creato un collegamento tra il Ponte Mimmo e la zona di Via Paleotto, diciamo, al collegamento della pista ciclabile, dove pulendo l'alveo, per cui abbiamo tolto tutti quegli alberi che andavano a creare delle ostruzioni naturali, diciamo, ma delle dighe, delle vere dighe, perché questo è il problema. Lavorare solo sulla foce però non è abbastanza, secondo Pucci. Infatti il torrente è lungo 23 chilometri e l'attenzione deve essere spostata anche verso le casse di espansione alla Travia Centinarola o ai Maggiotti. In caso di esondazione Chio che cosa è maggiormente a rischio? Sicuramente la zona che è maggiormente a rischio è quella alla foce, diciamo, dove c'è un centro abitato che purtroppo è sotto il livello, cioè a livello dell'Arzilla, gli argini sono stati creati, però quella è la parte più pericolosa perché ci abiteranno le persone. Qua potrebbe arrivare l'acqua di una bella ondata, però diciamo il rischio secondo me è minore. L'importante è per questo che non bisogna solo intervenire sulla parte finale, bensì su tutto il corso, diciamo, per cui un lavoro a monte e un lavoro a monte dove sicuramente la creazione di un parco naturale, un parco fluviale potrebbe aiutare moltissimo a tutti, compreso gli abitanti dell'Arzilla, di Via dell'Arzilla. Ci spostiamo alla Codma di Rosciano dove sono partiti i lavori di asfaltatura finanziati dalla regione Marche. Erano stati annunciati cinque mesi fa e oggi hanno preso il via, promessa mantenuta della regione Marche che ha voluto riqualificare il Codma di Rosciano, un centro servizi strategico per Fanno, la Valle del Metauro e l'intera regione. Nel dettaglio 850 mila euro sono destinati a rifacimento della pavimentazione, delle strade di accesso e dei parcheggi che presenta da anni un profondo dissesto. Oltre all'asfaltatura sono previsti lavori di riqualificazione esterna della palazzina direzionale per un totale di 500 mila euro. L'intervento, annunciato dall'assessore Baldelli, comprende la rimozione di elementi ammalorati, la tinteggiatura, la revisione dell'impermeabilizzazione della copertura e l'installazione di un nuovo parapetto. Non solo mercato ortoflutticolo, ma centro di riferimento per la protezione civile, per una serie di altri servizi che ad esempio sono stati fondamentali per la regione Marche, durante l'emergenza pandemica. Questo ha indotto, dopo alcuni nostri sopralluoghi dell'assessorato alle infrastrutture, a una valorizzazione del territorio, del centro, a un aiuto concreto alla protezione civile che ha qui sede in Fano, con 1.350.000 euro di lavori complessivi che prevedono la valorizzazione di questi 20 ettari, con il rifacimento degli intoneci, la cui gara sta partendo in questi giorni, del centro direzionale della pazzina direzionale di 2.200 metri quadrati, ma anche della valorizzazione di tutto lo scoperto di questo centro, che vale, come dicevamo prima, oltre 18 ettari di aree scoperte. Già dal febbraio del 2021, ha ricordato l'assessore Baldelli, ho avviato una serie di sopralluoghi tecnici per verificare le enormi criticità presenti, anche solo per accedere nell'area del Codma, attraverso una strada paragonabile a un'autentica groviera, detto e abbandonata all'incuria totale. In tempi rapidi abbiamo dato una svolta a questa situazione non all'altezza della struttura, che appartiene al patrimonio immobiliare della regione. Nella riqualificazione abbiamo anche posto una tensione anche nel smaltimento delle acque meteoriche, con il miglioramento delle pendenze e quindi un maggior deflusso, che è fondamentale anche per una durabilità degli asfalti. Prima alla fine dell'anno arriveremo anche all'appalto degli immobili, non solo della tinteggiatura degli intonaci, ma anche del consolidamento proprio del calcio estruzzo e quindi una riqualificazione di tutta la struttura fondamentale per la città di Fano. Soddisfatto anche il presidente del Cibi Club Mattei di Fano, Saverio Livi. Quando abbiamo aperto la sede qui anni fa, ha ricordato che c'era un vero e proprio bosco e l'area era sottutilizzata nonostante le grandi possibilità. Anche perché ci eravamo accorti quando chiedevamo in regione che qualcuno non sapeva neanche che forse esistesse questo spazio. Piano piano abbiamo iniziato da soli a togliere l'erbaccia e poi finalmente abbiamo avuto quella risposta dopo domande, domande, raccolta di firme anche da chi era qui all'interno del Codma. Abbiamo trovato una risposta nell'arco di qualche mese, anzi dirò di più, c'è stata una riunione di presentazione dei lavori a cui io non avevo neanche capito che si riferivano a questi lavori, sono arrivato anche in ritardo ma lì la sorpresa in cui la regione e l'assessore Baldelli comunicava che avrebbe fatto un'importante spese al Codma. Da qui l'entusiasmo ci ha caricato ancora di più per fare del nostro meglio. Un'area che ha la città per la città di Fano è molto molto importante. Aset S.P.A. si prepara alla decima indagine biennale sul gradimento dei suoi servizi. Verranno effettuate 1.500 interviste telefoniche, 1.200 alle utenze domestiche e 300 a quelle non domestiche. La partecipazione all'indagine richiede solo alcuni minuti ed è garantita la massima riservatezza, ha garantito il presidente Paolo Reginelli. Per l'azienda, proseguito, si tratta di un importante riscontro sul proprio operato, mentre i cittadini e imprese hanno la possibilità di esprimere valutazioni e suggerimenti. La nuova indagine comincerà domani, martedì 18 ottobre, e i risultati verranno illustrati entro la prima decada di dicembre. La gran parte delle domande verterà, come di consueto, sul servizio idrico e quello di igiene ambientale, con l'integrazione di approfondimenti in merito alla gestione delle farmacie comunali, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica e evotiva, dei parcheggi a pagamento e del laboratorio analisi. Rimaniamo a Fano perché entro la prossima primavera verrà realizzata la nuova pista di pump track nell'area del parco urbano, l'ex campo d'aviazione. Allora vediamo di che cosa si tratta nel servizio che è stato curato da Filippo Pucci. È stata presentata dal sindaco di Fano, dall'assessore lavori pubblici, insieme ai tecnici del progetto, la nuova proposta di area sportiva all'interno del parco urbano, nella zona dell'ex campo d'aviazione. Si tratta di un percorso adibito a pump track, ovvero un circuito fatto di salite e discese, curve paraboliche che permettono di fare salti e acrobazie o anche sperimentare il solo brivido dell'accelerazione. La struttura, che è stata aggiunta in un secondo momento nel progetto del nuovo parco urbano, sarà dedicata ai possessori di bici, mountain bike, pattini in linea, skate o semplicemente monopattini. Il circuito si ricolloca su un'area di 11.400 metri quadrati, ha una lunghezza di 630 metri, di cui 351 asfaltati e la restante parte è fatta in terreno, quindi è percorribile da mountain bike e biciclette con ruote di un certo diametro. Sulla parte asfaltata potrà essere percorsa anche da monopattini e pattini a rotelle e speriamo di farla validare dal coni in modo che sia possibile farci gare di diversi tipi, BMX e pump track. Una bella e moderna struttura, aggiunto poi l'assessore Barbara Brunori, che sarà al centro anche di gare nazionali. La pista di pump track verrà realizzata con una pavimentazione drenante, asfalto e terra e sarà recintata. Un impianto di tecnica e socialità, sicuramente una bellissima risposta per i giovani e i giovanissimi che oggi trovano all'interno di queste discipline delle belle risposte di aggregazione, ma anche proprio per mettere a disposizione le loro abilità e superare le loro paure. Perché ricordiamo che questo è uno sport di sali scendi, ma strettamente legato anche ad una forza fisica e mentale. Un nuovo impianto per la città che diventa un punto di aggregazione, di sport, ma anche un moltiplicatore di quello che è l'aspetto turistico, in quanto questi impianti sono tantissimo ricercati e ad oggi i nostri utenti dovevano essere pronti a spostarsi, invece oggi siamo pronti a ricevere tanta gente. I lavori partiranno a giorni per essere ultimati nella primavera del 2023 per un investimento complessivo di 250 mila euro. Sarà una delle più belle piste del centro Italia, ha concluso il primo cittadino seri che coinvolgerà tantissimi appassionati di questa disciplina, sempre più in forte aumento. È veramente per tutti, da sportivi, da appassionati, da persone che hanno il piacere di usarla. È un intervento, come dicevo, importante, che qualifica la città, ma soprattutto che dà un nuovo servizio, ma diventerà anche uno spazio e occasione anche per iniziative importanti per tanta gente. Ieri per le vie del centro storico di Fano e del lungomare di Sassogna si è svolto il trofeo Lamberto Tonelli, la manifestazione podistica che chiude il circuito provinciale di corsa su strada UISP Correre per Correre 2022, nonché gara fida di interesse regionale. All'iniziativa hanno partecipato circa 300 tra atleti, camminatori, bambini e ragazzi che con le loro canotte hanno colorato il percorso che prevedeva per i più allenati la 10,5 km e per gli altri i 5 km. La gara ha visto trionfare Ismail, portacolori della società atletica Rimini Nord Sant'Arcangelo, con il tempo di 33 minuti e 12 secondi. L'atleta si è aggiudicato anche il premio per il giro più veloce dedicato all'amico di Fano Corre, Andrea Orciani. Invece, per la categoria femminile, ha vinto Laura Giordano della società Silca Ultralight Vittorio Veneto, con il tempo di 40 minuti e 58 secondi. Il team event maschile-femminile, cioè la somma dei tempi dei primi atleti al traguardo, se l'ha aggiudicato la squadra atletica urbana. Ad impreziosire la competizione, riconoscimenti messi a disposizione dall'Avis Fano per la donatrice e il donatore più veloci. Dallo sport al carnevale, perché ieri un socio su 5 per un totale di 113 persone ha votato per eleggere il nuovo direttivo. Il risultato era scontato, visto che c'era soltanto una lista guidata da Maria Flora Gianmarioli. Domani si terrà la prima riunione del nuovo Consiglio dell'Ente. Le elezioni sono state una formalità, però sono state anche un momento di confronto ieri mattina per raccontare questi tre anni che sono stati non solo difficili, anche una grande scuola per noi. Ringrazio ovviamente il Presidente Gragnola per averci ospitato a Palazzo Bracci Pagani, la fondazione è sempre molto vicina al Carnevale. Adesso con questo nuovo gruppo, domani avremo il primo consiglio, quindi formalizzeremo tutte le cariche e poi iniziamo a lavorare seriamente. Quindi si parte dritti all'obiettivo che è febbraio 2023. Una bella squadra, insomma, decisa, coordinata e pronta a dare il massimo per la prossima edizione del Carnevale. Sì, una grande squadra veramente di grandi professionisti che si sono messi a disposizione della città e di questo grande evento, quindi sicuramente grande qualità e se lavorano persone di qualità non può che venire un prodotto di qualità. Ricordiamo ai telespettatori le date del Carnevale del prossimo anno. Sì, allora, le date saranno 5, 12 e 19 febbraio, le tre domeniche di sfilata, e però non scordiamoci che Fano è città del Carnevale, quindi cominceremo a vivere il Carnevale tutto l'anno. Questo è il nostro obiettivo. Ancora momenti di festa, ma con l'album di Fano TV, perché questa sera dobbiamo fare gli auguri a Giuseppe Bartoli e Graziella Mazzarini di Candelara, che sabato scorso hanno festeggiato 60 anni di matrimonio. Nozze d'oro invece per Gabriella e Mariano Tarsi. Questa coppia di Fano ha festeggiato 50 anni di matrimonio, sempre sabato scorso, 15 ottobre. Auguri anche da parte di tutto lo staff di Fano TV. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento con Occhio ai giornali, condotto da Massimo Foghetti, che torna domani mattina alle 7 in diretta. Buona serata a tutti e arrivederci a domani sera. Grazie. Grazie. Autore dei sovrapposti